La reazione comunitaria dell'Occidente rispetto al conflitto di sanità dell'Occidente, perché oggi noi stiamo lì a dire ah, a capolato le armi, le nazioni, ma immaginiamo un attimo lo scenario in cui invece si contro la situazione dell'Occidente, se l'Occidente avesse reddito in maniera sconvolta o meno dei vattori, magari senza una legia, magari senza le reazioni di l'Occidente, Stai non qui a fare una trasmissione, la mia vita è diverso di quella tua, la reazione c'è stata, bene che c'è stata, io credo che c'è un'emozione rispetto a qualche giorno fa, qualche giorno fa c'era Johnson e Biden che facevano ai casi una parola più grossa, si diceva sul pubblico, le umane cose, ma siete scopi? Ma voi se c'è invece, una relazione, grazie anche all'Europa, e favorezziamolo questo gruppo, che succedeva se notevivenza, non sono proprio qualsiasi dire. La mezza E ground, siamo distribu额, ma è così, ma è così. La mezza E Fishelarma perché a volte si attaccava al mondo, quindi se non ci tertulisce, non si attaccava alle competenze, non si attaccava alle competenze, non si attaccava alle competenze, non si attacqua all'anno sola. Ma fannoferme egg Oui faire dello che ci t arrogante l'Eater, non si attaccava alle competenze. Una minizia Leben 1-1, quando si attaccava dai tempies, non si attaccava alle competenze, non si attaccava alle competenze ai operazioni.